E poi è palese. Comunque, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io vorrei fare, sei di Napoli? Ma poverini. Quali il mio dubbio? Se sei delle tigre per Napoli. Allora, ma regà, siamo in un mondo di merda, cosa dobbiamo farci? Allora, il problema è che non so mai dove devo andare. Videoproducer, magari? Sì, videoproducer. Come go in live, put up. Elimina. Ta-ta-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Ta-ta-tan-tan-tan-tan. Vabbè. Regà. Un po' di rischio ci vuole. È l'unico modo? Sì. Devi aggiungerlo. No, 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 c'è, c'è. Solo ce l'avevo chiamato. No, c'è il tuo spunto. Sì, lo so, ma anche lui. È iniferito. Va in stando. E funziona così, Elimina. Non è istantaneo. Buongiorno comunque a tutti. Vado, che caldo. Buongiorno. 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 Come state? Non lo aspettavo, fai lì. Cosa state facendo? Vuoi bene, vuoi bene. Vuoi parlare in inglese? Ah, non sono italiano. No. Vado da dove sei? Siamo ragazzi brasiliani. Scusate, non parliamo in italiano. Vado da dove sei? Siamo da Brasile. Brasile. Qualcuno sa parlare il brasiliano. No. Quixi. Quixi, squixi. Portugaisi. All'ultima volta. Avrei anche una ragazza. 10. Yeah, sorry. 10. Fai vedere perché pizza... Se gli impedisco di mandare cose, che devo fare? Questa. Pizza, ti sta scoraggiando il cervello o cosa? C'è l'ormeio. C'è l'ormeio. Mi fai rispondere, ti prego. Scusa però... La questione della mia rapida, questa deve sfogarsi. Qualche studio di Dio. Non mi urlare. Non so di cuore. Potremmo far sentire una bella. Buongiorno. Ciao. Come stai? E quello è Gesù? No, sono il cugino. Sei il Maseo? No, sono il cugino di Gesù Cristo. Buono. È incredibile. Tutti ti dicono sei Gesù o sei il Maseo. Cioè è incredibile. Sì, tutti. E vabbè, ma... Assomigli più a Buddha che Gesù. Più a Buddha. La calma è di Buddha, effettivamente. Esatto. Però... Non mangiate il cocco? Eh... No. No, un molto. Salve un fresco, un cocco bello, ti riesce l'uccello, ovvio. Eh, certo. Fate... Fai lo youtuber. No, faccio il twitcher. Capissimo. Che cosa fai? Cosa fai? Cosa fai streamer? Eh, io la persona, principalmente. Eh? La persona? Sì. Come ti chiami su Twitch? Ma io te lo spammo qui. Prego. Prego. Ma sei in live? Sì, sono in live. Ti ho levato la... No, io avevo levato l'audio. Sì, quando lui ti chiede per le domande... Infatti... Affaccio di cazzo. Io ho levato l'audio. Fare gentile, rifaccio. La tua mamma fa la puttana sulla tua... Ma hai schippato te? Esatto. Io l'ho mutato questo, perché era scemo questo. L'ho visto. Dovevi farmi fare la mia fatica. Sei in live. Mi ero su no perché partire la tua mamma fa la puttana per 625. Ma sei te che hai schippato? Non è colpa mia. Dovevo mutarlo questo. Cioè, io ho fatto quello. Ma te, dammi un segnale che è mutato. Ah, perché ti sei preso paura? Vabbè, ormai che l'aveva detto. Io non ero qui per Mattia. Smetti di provarci con Mattia. Buongiorno. Aspetta, ma sono sedita, eh? Non si può fare. Invece si... No, sono sedita. Io ci stavo provando, ma non si può fare. Perché manca il sesto dito. Ma in quanti siete? Quattro. Quattro. Eh? Eh, vabbè. Oh, il leone. Eh, vabbè. Se fai la foto così non si vede. Te lo fai proprio. È vero. Eh, ti sei utilizzato a dare in live, magari. Buongiorno. Oh, non ci sto in vista. Sì, dopo io. Guarda, io ho già... Guarda, solo per andare e tornare ti costa cent'euro. Buongiorno, scusa. FBI. A me è me che mi ha educato il ragazzo che dice certe cose in live. Ma davvero? È incredibile il ragazzino che è entrato e ha detto certe cose. In realtà due di fila. Comunque, buongiorno, scusate. Non c'è il ragazzo che è mai per coglione. Sì, sì, però... Puttana, se sei te sappi che c'è la ciuffo di merda. I minuti li fanno schifo, ma... È il problema maggiore. Scusate che non vi si vede il viso sulla live, ma siamo in live. Eh, mi sa che si è sentito. Cosa? Quando ha detto... No, no, l'ho mutato. Pizza ha detto, infatti, dire... No, no, quello prima che ha chiuso. Ah, quindi... Sì, sì, sì. Qualcuno gli cancella il messaggio di Pizza. Scusate. Cosa state facendo qui, suo amico? Scusate. Niente, ciao. L'hanno aspettato tutto il tempo? Va bene. Non mi caricherà. Non posso da qui, dovrei fare così. Poi così. Poi così. Poi così. Un suo contatto gli risponderei. Se potessi avere un suo contatto gli risponderei. Se potessi. Se tu potessi. Credo... Perché se potessi... No, non me ne frega un cazzo. Perché ho già la concezione del... Si, poi sti cazzi. Cioè, nel senso, un giorno lui morirà e sti cazzi. Non lo ricorderò più. Se tu potessi. Tu potessi. Barba e Zoff. Pizza. Non sono Zoff. Ok. Si, se quello che sei... Sono sette i capelli viola, il lavandino e l'asciugamento viola, però i capelli sono usciti bene. Ti li sei fatti adesso. Ma che bello. L'adoro, io so. Ciao. Non so, ciao. M. Io F. Vedi, cioè i capelli lunghi è la prova di essere... Donna Barbuda senza... Ti è piaciuto. No, no, no. No, no, non va, non va, non va. Se tu potessi avere... Se è la brutta copia del Maseo, sono la copia calma del Maseo. Maseo. Ciao. Buongiorno. Ti fate spettare? Sì, se ti riesce. Sì. E non a tutti riesci. Vero, è difficile. Se l'hai fatto qualche ora fa... La media è tipo altissima. Cosa fare? Perché ti colori la peli? Se vuoi, lei non te li può fare niente. Pizza? Cazzo, non puoi dire... Ma te l'avamo stisto. No, mi fai... Non potevo, non c'avevo la mano sul muto. Sì, ma non li ritroveremo più. C'è stata una coincidenza. C'è stata una coincidenza. C'è stata una coincidenza. Cazzo. Io li avevo... C'è poi questi... I cromosomi rimbalzano. Io li avevo bianchi. Come li avevi bianchi? L'ho capito orainamente qui. Buongiorno. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Io l'ho detto. Sì, siamo molto fiorentini. Sì, siamo molto fiorentini. Sei lì dove sei? Purtroppo... Perché no? Non l'abbiamo... Demi... E io sono... A me nessuno. No, è un buono. Il friuli. Aspetta. Non è il friuli. No, per me è di Salerno. Non c'è un petal detector. No, no, c'è la faccia salernicano. Ragazzi di Firenze? Siamo tutti di Firenze. Ormai andavo a video di te. C'era un video, tra piccoletto. Di te? Eh, vabbè, ce ne dà che ti dà un video. È il Massimo. Perché non ce li credo? Tutti mi dicono che sono... Sembra il Massimo. È il Massimo, mia mia. Non ho capito perché sento parlare. Sì, scusami. Ci dobbiamo parlare o vedi? Non conosco nessuno di... Questo nome, il cognome. Eh, erano rosa, infatti hanno perso il colore. Mi sono fatti viola. No, non te li fai troppe volte. Poi ti si rovinano i capelli. Attenta. Sì, siamo in live. Su Twitch. Guarda, io... Io spammo, nel caso. Eh, quanti spettatori? Beh, adesso sono dieci. Ciao. Vi ha salutati, comunque. Ciao. Fizz evitiamo di scrivere tali commenti con queste persone. Ma ha schippato, ma pubblico. Ciao. Ho partito un poro. No, no. Ho letto, ho letto. No, regà, niente cose brutte di scrivere. Ti do io. Ho solo aggiunto il colore, quindi non ho fatto nulla di che. No, l'abbiamo perso la cellulata. Perché ti sei perso? Ti sei perso la valida, la valida. No. Ripetela. Appena entrano quelli di prima. Senti, è pissa. Scappa anche il palazzo. Madonna. No, noi si cantano. Io non li devo più. No. No. Senti, è una parola. Senti, è una parola. A me è un po' di supporto. Vazzo. Siete? Siete? Arrivando i saleri. Siete? Vazzo, è il partito dell'antipo in cervello. Avremo sempre il dubbio di dove siamo. Bel bambino. Vi piace Jimmy? 20 euro su Amazon. No. Sembra che tu sia uno. Sazzo. Mi sa che è i madri. Cos'è che più ti asciuga più ti bagna? La spugna. O l'asciugamano. Buongiorno. O che si. Questi sono i... Quei sono i... I panini di eseguiti. Facci alcuni, vai giù. Va bene. Ma tu, 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 tu. Ma le ha detto un po' di supporto. Non le hai... Ma fammi un pompino, poi di giù. Ma perché? Ma perché sì, ma si può vedere una per maniera di segreti di venti. Ma lave. No, ma c'è ragione, c'è ragione. Non è sti cattivi. Ma perché non mi dai più bonus, Esca? Perché... Brasati. Stai, ero uno scimmio. Buongiorno. Illumina. Ma ti aveva attaccato ai capezzoli? Sì, ero. Finito a giù. Ah, dicevo. È sempre lui. È tipo una... È la quinta... È la quinta... È la quinta... È la quinta sera che lo vedo. È l'uomo... Il cazzo buio di sangue. È l'uomo pipistrendo. Cioè, riconosco più gente dai peni che da altri. Fassi, ma... È l'uomo nero. Ciao. No, no. Non si vede. Buongiorno, sei tutto scuro. Ma sta piovendo, no? No, io... È il ventilatore. Spetto fino al quattro. Io so che sto pazzo. Ma il telefono al sette. Rimango fino al quattro. No, nel caso Anna. Addio, addio Anna, addio. Però che Mattia mi chiamassavo come la mia amica. Perché lui è la tua amica. Mattia è l'amica di tutti. Eh sì. Voi. Voi, buongiorno. Posso essere più di una mia. No, buongiorno. Guarda. Cos'è più bello? Dello stesso? Cos'è? C'è più bello stesso in maniera orizzontata? Perché proprio la storia? Non ho capito. Questo non era per nulla divertente. Non dico bene. Buongiorno, questa è una mano. Quella è una mano. Come hai detto? Leo, Mattia è una tua amica. Sì, sì. Dai e viola. Ti ha detto dai e viola. Dai, poi... Digghi dell'affetto. Dai e viola... Dai e... Presumo romagnista. Non muore. No, so. Non mi muoio dire. Dai. Esatto. Il vostro coro è il più bello di Sara. Ve lo dico. Io lo ascolto e lo fa tanto. È bellissimo. No, lui è rumeno. Ma credo, no, ma... No, no. Complimenti, peccato. Andate di merda. Anche io c'è la maglia di Bastista e la Ferentina. C'è la maglia di Bastista e la... Ho detto lo scudetto con lui. Vabbè, non... Comunque tutti... Eccolo lì, l'inno della roba. Vabbè, comunque... Se il suo meagle sulla versione video e audio, e se senza video e audio. Anche tutta la vita. Beh, anche dieci anni di galera potresti aspettare. No, allora, puoi... Non aspettare, puoi aspettare. Sì, rilassare. Aspetta. Poi senti i video dello stadio. Cioè, Pizza sta spammando. Devi solo aspettare te. Cioè, non so cosa sto spammando. Pizza, smetti di spammare. Dovrei aprire altre cose dove levare il... Voi che cazzo state a fare? Stiamo su... Twitch. Io te lo spammò qui, il... Faccio così. Anzi, dai, faccio così. Che fate su Twitch? Siamo su Migos, su Twitch. Roulette? Sì, esattamente. Quella russa, però. Dai, Rhea. Vai, tocca a te sperarti. No, Leo, Leo, Leo. Ciao, ciao, Leo, Leo. Ho bisogno di più Mattia nel retro live. Eh. Purtroppo, Mattia, deve lavorare domani. Domani sì. E sono l'uno in quarto. Che poveri. Twitch. Mio. Ci metti i denti? Ci metti i denti? F per Martia. Cosa vuol dire F per Martia? Scusate. F per respect. Quando ti tolgo... Grazie. Grazie. No, intendeva i tre anni di galera. Intendeva tre... Grazie a tutti. Sempre se il padre di Anna non ti fucilla. O la madre. O tutti e due. O entrambi. Pepe, non entrare in camera mia. Così. Sì, in gospo, siamo piccoli. Mamma mia, quanto era bello. Ah, già. Tu non... Mattia, non te la consiglio se... Ci metti i denti? Ho avuto queste brutte esperienze. Anche... Il problema è che anche io ho avuto questo tipo di esperienze. Non è stato bellissimo. No, andrò. Un po' di... No. Un po' di dentino ci sta. Però... Poco. Ma quando se lo vieni quasi a mordere? No. Quello no. Ma che cazzo sta... Dai, io devo andare. Quindi se vuoi che mi posseggia a casa... Piove? Sì, allora. Allora, usciamo la te da Omigle. Metto l'attivo viso. Saluto. Saluto tutti voi. Wow. Dai che ce la fai. Dai, telecamera. Non mettere a fuoco. Ok, grazie. Non fate segate su pompini da parte mia. Non è un... Sì, te ne ho preso. Dai, Pepe. Di culo. Ah, Pepe ha paura dei tuoni. Dai, gli stilo o do? No, no. Glielo dai su Instagram. Non inviare foto se no io sono legalmente obbligato a denunciarti. Io non posso assicurarti niente, però... Per stamattina. Dai. Salutate tutte e tre. Magari senza farmi bannare. Da me e da me è tutto. Sono bellissima facciamo una mia bellissima barba. Sì, magari fatti vedere. Sì. Guarda. Ciao, bello. Ciao, bello. Ciao, bello. Ciao, bello. Ciao, bello. Bella pizza. Tanto ora vengo su Discord. È vero. Aiuto, please. Vieni qui. Sta fermo? No? No. 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 No, io non vado a dormire. È sempre qui nel mio cuoricino. Ritorna un poco su Discord. Con i miei paninozzi delle tre di notte. Se tu collegassi tipo il video, io potrei tipo... Che cazzo stai? No, Leo. Mettermi in live. Potrei metterti in live mentre fai il panino. Il momento panino di Ema. Sono... Beh, se li trovi. Comunque, magari non stasera, magari... Vabbè, vai. Momento pubblici. Momento pubblici. Beh, su credo anche... Ma voi potete vedere che è follower di chi no? Eh, sì, lo posso vedere, ovvio. Guarda, così. Segue dal giorno... 1 giugno 2020. Pizza. Basta. No, non sei più un follow. Ma pezzo di merda, pizza. No. No, va. Ha triggerato un bot. Invece il fatto che io... Non c'è che... Sorry, Matti. Possiamo essere amici. In questi casi, anche io. Ma dovevo... Ti ha frenzonato. Ti ha frenzonato, Matti. Eh. Mi spiego. Ma hai un buco sotto la... Davvero? Qui. No, signoretto. Oh, madonna. No, perché... Non vuoi, che ti manca un po'. Ti manca. Madonna, perché mi piace un po' buco. Tipo... Tipo... Tipo qui. Vabbè, io sono nella tua stessa situazione. Cioè... Cazzo. Non qui sotto, no? Qui sotto sono abbastanza... No. Questa è... Questa è la definizione di Fiore. È friendzone. È friendzone. Sì. No, questa è la safe friendzone. La safe friendzone. Sì. La safe zone. Sì. È la safe zone. Sì. Allora, avrò la mia vittoria un giorno. Ciao, belli. Non mi toccare. Ciao, ciao. E dovevo mettere i miei strumenti lì. Dovrei stuccarlo. Eh, torno subito, rega. Viva la... Uff. Non mi riesco. Vabbè, io comincio un puzzo con il dito, rega. Per piacere, andatevi. Guarda, sono io. C'è una tazza di storie sotto quella scella. Davvero? Guarda, guarda. Ciao, grazie. Dai, dai. Beh, ragazzi, è troppo. Torno subito. Sì. Ciao. No, pizza, non dire queste cose. Mi risolto. Grazie. 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 Vai. Eccomi. c'è un odore di ormoni qui dentro chi non si ha un'idea torna la prima rettelissima ok 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 ci sono le file interni allora devo mettere le cose belle tipo un lato sopra il letto perché sennò è colorato e mi dà problemi con xsplitter dissing in diretta sì no pizza mi dici cosa ti è successo hai avuto una brutta giornata ti sei lasciato ti hanno boh tradito non lo so ti è successo qualcosa di male che ti vedo abbastanza incazzato oggi ora possiamo parlare un po' più a cuore a cuore quindi magari non ho letto qualche messaggio importante pizza sarà sotto effetto può darsi pizza è sei sotto effetto di qualcosa sei alterato in qualche modo tipo il mio cane che si sta cagando sotto per i tuoni va così ah siamo nel cielo non mi interessa cosa è successo a pizza se non la smette non gli succederà più nulla perché sarà morto e io odio le minacce perché non possono essere realizzate cioè nel senso oh wow l'ho minacciato e poi è nulla l'ho minacciato basta le minacce sono una cosa che non servono mettono solo astio fra due persone non era una minaccia si è si chiama minaccia oh cacca comunque ne ha senso era una battuta ok vabbè se venite in stazione ah sì no vabbè poi in un paese civilizzato non hanno senso poi nel senso che che la gente si anima l'esca e comunque ha funzioni e quello è un altro discorso oh buongiorno sempre lui buongiorno magari è davvero avuto una giornata di male no davvero mi sembra davvero contro pizza ok 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 se non te la stai prendendo davvero con pizza sono felice per te anche perché averci a conto qualcuno è è brutto cioè nel senso poi cosa ti porta è farti girare il cazzo no no comunque non mi sono lasciato e non me ne freghe mi sarebbe fregato niente e ti è successo qualcosa altro allora pizza perché ti vedo che oggi sei particolarmente quella king e tu sei torato di abbigliamento e accessori realizzati no ma appena diventerà legale sì non so se ok stai facendo il check del tipo buongiorno hanno skipato quindi cosa hai cosa è successo al povero pizza per buongiorno no sto male e anche io sto un po' male probabilmente il latte e sciroppo di minta che ho preso prima non mi ha fatto troppo bene però si dira avanti ma non affetto ok ma io ti adoro ma grazie mille sei gentilissima ti vedo su tiktok eh mi vede tu su tiktok qualcuno mi spiega come fa a vedermi su tiktok senza che io sia su tiktok gli ho perso 900 uuuuh no tipo nei pov non so di chi stai parlando però sei su omegol senza video né audio perché lo stai facendo magari li attivi quando è il caso giusto no pizza mi dispiace avere un bot dell'atletico che vuol dire che senso installa tiktok si no l'ho installato l'ho usato per un po' poi mi ha annoiato perché non guardo meme non mi interessano i meme però il follow l'avevo tolto perché avevi messo il blocco a tua sorella ahhh per quella volta eh no ti ho già spiegato le mie ragioni pizza però sono felice che tu sia tornato nonostante perché sei su telegram e quindi hai visto la notica ok capisco beh bella fra ciao ciao Silarro buongiorno 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 non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno si qui hanno fatto dei suoni che stavamo dicendo ok comunque capisco il tuo giramento di palle pizza ecco volevo comunque buonanotte torno dopo che mi ok pizza vedi di stare bene capisco già metodo vabbè qua pizza dai pizza bello bello come ha detto buonanotte torno dopo ok buongiorno no non è un buongiorno per l'unico oddio il suo rumore per dio c'era l'eco gigantesco comunque vi sto mutando tutto perché giustamente quella come se no no schippano schippano tutti anche io sono M M ma no ma schippato no voilà questa è in bagno già voilà ciao youtube no è più ciao coso twitch vabbè mi dispiace schippare la gente davvero come questa è la seconda volta che si scrive questo messaggio buongiorno ma sono un twitcher è diverso faccio live su twitch no sono eh sì sono a casa mia sono a casa mia in paradiso sì 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 uno dei tanti paradisi ah ok ok bello come mi rovi ma si sta bene comunque sono il cugino di gesù cristo se ve lo state chiedendo ah ok infatti non davo una certa domanda ma certo scusa ma te no a quest'ora che cazzo stai a fare su michael non molla sto cazzeggiando ah ok quello non è praticamente ma hai un schermo verde dietro no non è uno schermo verde in realtà e la cosa divertente è che se faccio così c'è il nulla dietro oh che figo wow l'applicazione guardate qualche altra cosa sì posso mettere qualsiasi cosa posso andare a casa mia quella con col teletrasporto ovviamente ci vado perché ho i poteri divini anch'io certo però dove cazzo è oh ecco bella in chiesa è la chiesa è la casa bella bella molti luci ma scusami ma chi le paga che cosa come e lui ci si spengono e lui ci si spengono che cosa vuol dire pitcher te l'ha detto fare live su twitch e che cavolo è twitch è un'applicazione tipo instagram e che cosa di che cosa parli eh faccio live in cui sono su amigol e chatto con la gente su amigol ah e dopo di giusto che cazzesco ma quindi stai a fare una live sì ah quindi ci sentono sì lì si sente oh che cos'altro ma chi ci sta è un po' di gente quanta gente quanta gente beh al momento sono sei prima hanno toccato anche i 12 ah vabbè 14 ok vabbè sì vabbè pure noi quando fanno male in diretta comunque c'è tra un massimo una persona quindi insomma vabbè un po' per volta si cresce sì sì è vero sì è vero vabbè è stato un piacere ciao 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 a tutti devo mettere servo per amore remix quindi youtube servo per amore remix dato che è stato richiesto giusto per alzare un po' non si sa che dice offri la vita tua come ma tutti morti piedi della croce sarai servo figlio di un uomo servo per amore sacerdote dell'umano su 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 ok cesare buongiorno matti no leo ma perché hai messo la messa no servo per amore è un capolavoro è la canzone del canale buongiorno 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 Buona sega Ma tu sei quello che bestemmia Bestemmia un pochettino Però non troppo dai Anche perché al momento mi trovo in paradiso Quindi ebbe un po' Tu sei un grande Grazie mille Ciao fratti adoro Grazie mille La gente che mi confonde Per il Masseo Fa ridere Ma tu sei quello che bestemmia Ma sei un grande Però non sanno neanche chi è lui E quella è la cosa buffa Quindi Però il problema è che neanche sappiamo Che è il Masseo Perché altrimenti mi avrebbero scambiato Buongiorno Come stai? Beh sono felice È il paradiso Nel paradiso? Sì Minchia Quinto girone Ah Come hai diviso il paradiso? Bello Che in che paradiso sei? Io? Ehi come sacci? No Ma io il quinto appunto Ah il quinto Sì 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 Minchia Eh che stai facendo? Ti stai divertendo? Ma guarda Da poco ho preso il telefono quindi Ah ok Quindi ancora sei Vergine di peni Sì L'hai già visti? Sei già stato traumatizzato a vita? Sì Visti Mamma mia Vergogna Già 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 Quanti anni hai? Io 21 Minchia Ti quanti ne hai? Io 18 18 Ok Sei molto legale quindi Sì sì Mi piace Grazie Dopo due anni e mezzo di crescita Da zero Eccoli qui Madonna Gesù Cristo in persona? Porco Dio No Sono il cugino Ah sei il cugino Cugino sì Ah quindi è il cugino di Gesù Cristo Sì è il cugino Sì 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 Io sono il nipote Sei il nipote di Gesù Cristo Ma Figlio Mio Oppure Il figlio del figlio Il figlio del figlio Il figlio del figlio Ok capisco Vabbè Grazie mille Nipote di Gesù Cazzeggio totale Chiacchiere Beh sì Ma sei così uno streamer Oppure Beh sì Sì Dio migo Sì Non ti si vede il video Tranquillo Però Ti si sente la voce Vabbè Grazie mille Per la chiacchierata Allora Rosi Io nel dubbio Ora C'ho i traumi Quindi Schifo È Muto Questo Non ce n'è Covid Madonna Perché c'era un quadrato giallo Why Tell me why Buongiorno Non parla Non c'è il viso Non scrive È morto Un cadavere Io vado a letto Notte Cesare Buonanotte Buona sega Soprattutto Anche a lui Buona sega Buongiorno Buona Come stai? No Sono il cugino Di Gesù Cristo Eh sì Ma anche Dio Lo dice ogni tante Cosa? Va bene Te come va? Beh complimenti Beh sì È la verità Effettivamente Il viso Non ti si vede Non ti si vede Perché È censurato Da un bellissimo Gesù Cristo Però Se sei Beh se vuoi Lì c'è il nick Se proprio sei curioso Cugino Cugino Attenzione Abbiamo litigato Con la famiglia Di Gesù Per quello Eh l'ho scritto In chat Grazie Grazie Lorenzo 788 822 Benvenuto All'ultima cena Comunque 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 Come state? Che fate? Ci stiamo guardando un film Ci stiamo guardando un film Siamo appena tornati a casa Eravamo in giro Ah ok Vi state guardando un film Mentre siete su Amigos Quindi? Sì Giusto Allora Stessa domanda di quell'altro Il film fa cagare Ah Non è vero Tu che non lo stai guardando Un giornalio Quindi non lo stai guardando E quindi hai detto Vassi ma andiamo su Amigos Sti cazzi Sì Cazzi Inizio pensavo fosse il Masseo Anche io Ma troppa gente Mi confonde per il Masseo Ma non lo sono Però Lui è il cugino di Gesù Esatto Esatto Anche chiamato Messia degli hentai Però Roba Roba Top secret Quanto è che siete In live adesso? Eh Un'ora e quaranta No Quanti siete? Ah quanti siete E ora siamo un po' Un po' pochi Sono scesi Ora sono tre Prima avevamo toccato i dieci Se speravi uno con mille Follower No No Cioè ne ho trecent cinquanti Io così quattro Dai A noi non ci interessano le persone Quanto sono famose Ma quanto sono simpatiche Giusto giusto Se no non saresti suo amico Dopotutto Esatto Sì che poi Tanto C'è nel senso Cioè uno può avere anche pochi follower Ma essere Cioè nel senso Tanti famosi Partono da pochi follower E diventano Beh di solito funziona così la vita Si parte dal basso E si sale Eh no Ma i cugini di Gesù partono dall'alto E scendono E scendono Se non avessimo litigato con la sua famiglia Avremmo Scherzo scherzo Quella bestia Ma tu cos'è che fai su Su Migola Nel senso Beh parliamo di cose Tipo Parliamo di perversioni Seghe Perversioni tipo Tipo le perversioni più oscure Cioè tipo Ti che hai avuto una bella reazione Su Yentai Sai cosa sono? Sì sì io sì Cosa ne pensi? Porno No però stai dicendo Lui sono dei porno Comunque Yentai Tipo Porno giapponesi Giusto Porno giapponesi Animazione Pornografica Giapponese Ok O cosa ne pensi? Le giapponesi Con le tette enormi Tanta roba L'unica fatica È che sono censurati Ma in realtà Il fatto che Sono disegni Quindi È meglio che sono censurati Così la tua mente Può viaggiare di più Cazzo Vero Questa non c'ho mai pensato Neanche io Carto di giapponesi Porno esattamente Dio libero è arrivato Buongiorno Ale Eh già E cosa ne pensate allora? Boh Per me ci stanno Cioè alcuni sono belli Però tipo Quelli che ti trovi Su porno Così di solito Manca Cioè nel senso Come grafica Quando scrivo Già Sì Molti sono brutti Però Molti sono belli Soprattutto gli ultimi Stanno uscendo E sono Proprio Tanta roba Dov'è che si trovano? Cioè nel senso Guarda Se cerchi il mio nick Su google Trovi il mio sito Tipo terzo Quarto risultato Ed è Tanta roba Oppure Tipo Su certi siti Tipo Ma mi sa che dopo La chattata con te Andiamo subito Va bene Allora Vi dico Buona sega Allora Bella Bella per voi Ciao Ciao La cosa che non Mi piacciono Gli entei Che certi sono censurete E non si capiscono Il motivo Perché scopano E non si capiscono Il motivo Perché scopano Beh In realtà Il bello Di molto In te è proprio Che c'è una trama Molto profonda E quindi Capisci i motivi Cioè nel senso Molti vabbè A cazzo di cane Però Le censure Io invece Le approvo molto Infatti In te Scensure mi fanno schifo Perché Sono disegni Molto spesso Sono disegni brutti Anche perché Non si sono Proatizzati Il tuo sito È un labirinto Non si capisce Come funziona No Perché non capite Regà È così semplice New Allora Ovviamente Non ve lo mostro Perché se no Entra il video edit Poi Cliccate sul Il nome di qualcosa Oppure sul Sul Sulla Sull'emote Sulla 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 miniature Aprite C'è Il primo link Tipo 480p Mega Episodio 1 e 2 E c'è il primo link Di AdiFly Oppure Il secondo link È il Patreon Se volete fare il Patreon Ma c'è fatto I sottotitoli Niente sottotitoli Niente sottotitoli Perché Niente sottotitoli Perché Io li edito Cosa vuol dire Che li edito Levo tutte le parti Con i chiacchiere In cui ci sono i primi piani AgriBustard Tutte le parti Inutile Lascio solo Le scene importanti È per quello Che Non li sottotitolo Se no ci sarebbero delle scene In cui ci sono i dialoghi E io li taglio i dialoghi Quindi Non sarebbero utili E tipo Perché Perché ho fatto Sta cosa Perché Mentre Li usavi Mentre ti facevi Una pippetta Arrivavi lì Magari Sei a metà Stai per venire E Di più È la cosa È la cosa che Mi sta distruggendo Di più Gli orari Ed è la cosa Che guadagno Meno Ma se tipo Uno vuole vedere Un episodio Intero Con I sottotitoli Dove si guarda Ci sono molti siti Io Li consiglio In inglese Perché Escono Molto più Velocemente Comunque Però Cerchi Cioè Oggettivamente Cerchi Non Non ti posso Cioè Non saprei dirti Preciso Non te lo posso dire Però Nel senso Non è così difficile Cerchi Subita O Subbang O Subspagnolo Che a quanto pare Scomprime in spagnolo Che Oddio Effettivamente Il sito che uso io È spagnolo Quindi Io non mi fido Molto dei siti Ho paura È una cazzata I virus Non esistono più Nei siti Basta che Cioè Nei siti principali È quasi impossibile Trovare siti Dato che C'è gente Che ci campa Con quei siti E qui Di metterci Delle cose Con Dei O comunque Bisogna essere attenti Quando si apre una pagina Bisogna saperli Finché non clicchi cose sbagliate Non O scarichi cose Non ti dovrebbero dare problemi Davvero Nella verità Anche sui siti Più grandi Non Danno Problemi Anche perché Sono Magari compagnie Multimilionare Come Sarebbe stupido A parte loro Mettere delle cose Che ti danno virus Sono delle cose Che ritornano Anni e anni fa Quando ancora Era un far west In cui Non si sapevano I siti migliori E i siti per adulti Si sta parlando Di come I siti per adulti Adesso non hanno più virus È rimasta come mentalità È rimasta come Tutti credono Stata cosa Ma in realtà Non è più vera Tipo sul mio sito Non riesci a prendere virus A meno che su AdiFly Non fai lo stronzo E clicchi le pubblicità Ma in quel caso Stai cliccando la pubblicità Ed è ovvio Guarda che quando Apri una pagina A caso Ti puoi entrare E o porno Al cui Mi danno Il tuo telefono Ok Quelli sono fake Ma lo devi sapere Tipo Ti apri seconde pagine Tipo Hai presente su Google Ci sono paio di secondare Ecco Quelle ti apre E basta che Controlla lì Fai ok Cancella Poi ci sono siti Più affidabili Più affidabili Il mio è molto affidabile Perché c'è solo AdiFly Che vi dà Un guadagno economico Molto molto Stretto Tipo per dirvi Quanto ho fatto in questo Dall'ultima volta Che ho fatto il pagamento Dall'ultima volta Che ho fatto il pagamento C'ho tipo Total earnings 14 Dollari No Devo andare Dall'applicazione Perché non si capisce Devo andare su Refer No referrals Oh cazzo Chiuso Withdrawal Sono a 3,49 Dopo diversi mesi Che lo sto usando Tipo il patron Mi dà un botto di più Ma che cazzo Ah Che mi ha una foto Pizza 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 I messaggi Le foto da cancellare Comunque Il concetto è che Non ho motivi Per mettere pubblicità Cazzo di cane Io E così come Molte altre persone Infatti molti Siti sono affidabilissimi Comunque Non puoi sapere Se un virus Ti entra o no Quindi che ne sai Se tipo Entri in un sito E poi boh Ti entra un virus Perché gli dai I permessi Lo devi aprire Devi comunque Interagirci in qualche modo Nelle pagine browser È quasi impossibile Prendere virus Così a cazzo di cane I virus più grandi Che ho preso Sono virus Da Applicazioni Da computer Ovviamente Da applicazioni Che pensavo Potessero servire Io ho fatto Un'installazione In quel caso È merda Perché lì davvero Sono difficili A rimuovere Devi fare Molto spesso Anzi Quando ho dovuto Le varie Ho dovuto fare Le ripristini Del computer Per questo Ho diversi hard disk In cui C'ho le cose importanti In alcuni hard disk E le cose Non molto importanti Sul primo hard disk Molto piccolo Sull'SSD Perché Se devo cancellare Tutto In quell'hard disk Non ho problemi Se lo devo cancellare Dove c'ho i giochi Oppure Dove c'ho il mio lavoro Ovvero gli edit Lì è merda Lì rosico Come una bestia Perché c'ho A parte le cose che uso Ma c'ho File importanti Comunque E poi da telefono Da telefono Non si capisce Come cazzo è possibile Che ultimamente Ci sono molti virus Tipo Ti si apre la pubblicità A cazzo di cane Però Le è il limite Sì ma comunque Ti può anche Entrare di nascosto Senza nulla I virus Non fanno Hanno un motivo Per esistere Tipo Qual è il motivo Per cui esistono i virus Per fare i soldi Quindi I virus più popolari Sono quelli che ti mostrano Pubblicità Perché fanno soldi Tramite la pubblicità Ok Quindi se Ti entra il virus E non ti succede nulla O è un virus Che punta a spiarti Lì È più per le password Ma in realtà Non gliene frega Perché poi In realtà Non te lo danno A te il virus Ma di solito Alle grandi compagnie In cui hanno Molti email e password Di solito È lì che mandano Questi virus Anche perché I virus Non è che si creano Da nulla I virus Vengono creati Quindi uno Che crea virus Dice Qual è Il modo migliore Per fare soldi O lo creo Per una grande azienda E quindi Prendo tutti i suoi dati Tipo password E email Oppure Cose che mostrano pubblicità Mia cugina Ha preso un virus Da youtube a caso Cosa vuol dire Da youtube a caso Perché youtube È sicurissimo È fatto da google Cioè è difficile Che prenda un coso Da youtube Magari ha cliccato Un link Da qualche youtuber E poi ha preso Un virus Oppure è una scusa Perché che cazzo Ne sai che è una scusa Perché magari È data davvero Su un sito brutto Perché io Vado in molti siti Cioè nel senso Per scaricare Certi giochi giapponesi Io vado in siti Molto loschi Però Non è così Drammatica Cioè ci devi stare attento Ovvio Però Salve Cugio di Gesù Bella Just Rio Well S-Veloste Che siete brutti e 10 anni, e a voglia, a questa età sicuramente è così. Cioè ora non pensare che 10 anni è, 10 anni ormai è tutto cambiato. Nata principessa e cresciuta guerriere. Ovviamente è colpa dei genitori, perché ha una bambina di 10 anni e non gli dai il telefono, oppure io dai solo a certi orari, e se adesso dice eh no ma ora è abituata e bla bla bla, si lamenta se non ce l'ha, ok la dovrà abituare fin dall'inizio, ah dai io sono in certi orari, e a gestirla di più, o a scaricare applicazioni tipo Family Link che proprio blocca il telefono per bambini. Meglio single cliccato, sì sono d'accordo. E' mia sorella, lo dico in prima persona, solitamente si inizia quella. E va bene curiosità raga, non c'è nulla di male, noi esseri umani siamo curiosi, il problema è che la curiosità fa male molto spesso, quindi sì, è normale, ma anche perché io mi ricordo alle medie, oddio le medie sono un po' più grandi effettivamente, però boh. Vinci questo, togliete il corone e mettete l'armatura. Ok. Vabbè gli ormoni iniziano a farsi sentire, quindi è normale, sì sì sì, no infatti, ovviamente che i genitori non abbiamo controllo e bla bla bla, quello è un altro discorso, concetto è che i siti per adulti sono sicuri, soprattutto se andate su quelli più grandi, più conosciuti, perché girano così tanti milioni di euro, di soldi, che non hanno motivo per darvi virus. Quanti adulti si fanno il premium? Gli bastano quelli. Quindi sì, non abbiate paura dei siti per adulti, abbiate paura di quando vi mandano su altri. Prima eri come loro e adesso sei come loro. Ale, perché stai... Tutti questi messaggi a cazzo di cani, questi messaggi cliché, così, giusto per curiosità. Voilà. Voilà. Appunto, è quello che dicevo, non c'è bisogno di essere grandi. Poi sono cose naturali, cioè, rega, la masturbazione è molto importante perché, soprattutto nel maschio, perché nel maschio c'è un accumulo di ormoni senza la masturbazione che provoca dei seri danni sociali, perché appunto quegli ormoni sconcentrano la persona e gli fanno dire cose che magari non direbbe normalmente. Buonasera, buongiorno amico ta, buongiorno. Lo sto sentendo. E sono andate in poche parole, Leo ci sta dicendo che... Sì, esattamente. Oppure andate sul mio sito. Oppure andate sul mio sito che è comunque molto bello. Beh, se volete gli entai. Se volete gli entai il mio sito è che, tra l'altro, sul Patreon, porco di quel cazzo, stavo facendo il trasferimento dei soldi dato che è stato il primo del mese e mi sono arrivati i pagamenti a tutti i Patreon, tipo 84 dollari, ho fatto il trasferimento dei soldi e Patreon mi ha fatto. Ok, stiamo controllando se rispetti tutte le regole di Patreon. Io sono tipo, oh no cazzo, oh no, ora mi bloccano tutto, io ne sono sicuro, ho una paura pazzesca, non mi daranno neanche soldi. Cerca il mio nick su Google e lo trovi. Allora, il primo è Twitch, il secondo è Twitch, il terzo è il mio sito, è di forum community, il quarto è sempre forum community, il mio, il quinto è Patreon, il sesto è uno che non c'entro. E nulla. Questo è quattro. No, non è quello. Oppure vai su forum community e cerchi il mio nick? Sì, vai su forum community. Forum community. E poi cerchi... E poi cerchi questo. Non trovi nulla. Ah, magari staccato? Ok, sì, lo devi cercare staccato. Oppure... Ok, se cerchi il mio nick, ma edited e poi staccato in thai, in quel caso lo trovi. Come primo risultato. Ma il destino è che in ogni live che vai ci sono io o cosa? Ma te ci sei quasi sempre, rio. Ria porta, apri un portone, indovini chi trovi un altro poione. Ok. Comunque, ritorniamo al nostro Omegle. Omegle. Omegle, omegle. Omegle. O magari, la femmessa. Buongiorno. Tanto sono stanchissimo, Jirel. Il trefo sta tornando a scaricare ieri da ieri. tutti i schermi neri tutti i schermi neri appena riniziato e solo schermi neri maschio ma cosa c'è quella buongiorno come stai twitch sì sei mutato sei mutato quindi non ti si sente bello essere scemo sì ma sei mutato quindi non ti si sente no no ti ho mutato nella live cioè io ti sento però nella live stava scrivendo quindi ho detto ok magari lo scrivo in chat vabbè un scemo come come sempre sì ma guarda volentieri io te lo spammo lì comunque se sei curioso ma grazie mille te hai pensato io fossi femmina per un i che veniva per a io penso che sei femmina perché hai le pette chiure come sfondo ok ma grazie mille ma benvenuto all'ultima cena antonium 0404 grazie mille cosa ci dici ah ok ma perché sì ogni tanto si fa è giusto per trovare gente comunque e chiacchierare ma grazie mille ma sei gentilissimo guarda se ne varrò la pena sarò felice di non lo dare a casa non darmelo a casa solo se ne va a guarda vai grazie mille comunque io sono traumatizzato cioè oggi ho trovato un botto di gente testa di cazzo cioè io non riesco più a fare trucce sì ma non sì lo so ok ma se tutta gente mi dice le cazzo di parole che non posso essere dette io come faccio se la cosa ho beccato oggi su no oggi ho beccato solo testa di cazzo allora allora io metto un miglior perché davvero c'ho il batticuore oh adav allora non è possibile che ci sia così tante teste di cazzo cioè io sono una persona molto sensibile sono una persona che gli fai un torto se la prende a male proprio sto male e c'ho ancora il batticuore più quel cretino di poco fa che ha detto le parole che non potevano dire perché io ho visto ero un cretino palesemente e hanno iniziato a griarlo e ho detto sei mutato cioè sei mutato non ti si sente come si sente essere un cretino che dice le parole comunque ciao ad o dav non fai o ci sono testa di cazzo o ci sono solo cazzi bella bro antonium 0404 sì no davvero cioè anche te mi dispiace ma ti avevo mutato sul twitch cioè entro e ti muto finché non capisco che sia una brava persona perché davvero oggi sono quanti quattro uno che mi ha dovuto far stoppare la live e l'iniziale quindi ho perso la parte iniziale della live in cui ero con i miei amici secondo un secondo che l'ho mutato perché l'ho capito prima un terzo che non mi ricordo e questo era il quarto ma io davvero cioè mi scoppia il cuore ancora qua sì no ancora qua fino alle tre di notte e resto qua fra poco si fa scribble sta molto divertente scribble lo potete fare tutti insieme a te sono quanti neuroni Leo non quanti loro neuroni però ma scusa sono le tue waifu è pretty cute ok benvenuto all'ultima cena la mia waifu comunque è amico sempre e comunque non credo che voi avete uscito cazzi non credi eh quello sfondo del mio canale è Glitterforce il mio animo preferito Glitterforce Glitterforce il tuo animo preferito ma che cazzo chi quei ragazzi scoprono di essere supereroi leggendari e con potere ci sono adesso la loro missione è quella di fendere la terra dai cattivi del misterioso regno delle ombre ma quanto cazzo è generico rio ma sei uomo il tuo testosterone dove è finito e sei uno dei pochi che suo amico va per buone intenzioni no allora il problema non è tanto che te sei uno dei pochi con buone intenzioni il problema è che stasera era pieno di testi di cazzo quindi ok basta un amico oggi sono troppo stanca per disegnare sono troppo stanca per disegnare ok Anna te sai disegnare sul digitale? non credo cioè non lo so non hai un computer quindi in realtà non credo non credo tu abbia una tavoletta grafica perché ho bisogno di qualcuno che sappia disegnare che mi crea le motte comunque cose per il prime perché adesso c'è un lavandino quindi è un po' stupio ho lo stesso design dei petti ma con un nome diverso contro la wiki ok ok aspetto sono maschio ma mi piacciono molto i cartoni con dentro dei belli ragazzi io non riesco a medesimarmi quando ci sono ragazzi come i protagonisti ne sono tre cose più grandi di te no 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 figurati in realtà è uscito nel 2012 quindi ha otto anni che l'anime quindi è più piccolo oh beh cosine piccoline cioè qualcosa di a tema oppure tipo per bella wifi ok ah ti ho imprese wifi lol photoshop fare un dipinto di gesù ok lo posso fare anch'io ma vorrei qualche disegnino carino molto piccolo comunque tipo 160 no 116 pixel tipo per non le emote perché comunque quelle posso pensarci dammi un tema e mi farò venire qualcosa in mente tipo qualcosa per tipo gesù qualcosa da mettere come prime quello da un mese per ora quello di un mese anche se in realtà chi fa il prime adesso chi fa il sub adesso è tipo il simbolo del primo vediamo un po' non lo trovo passami il link qui meglio no è indifferente Ale e poi che altro mi potrebbe servire per i punti perché adesso c'è sto simbolino c'è sto cerchietto brutto però qualche simbolino bellino potrebbe tipo un ostia no non lo so ostia è brutto effettivamente cibi di gesù con in mano che indica il primer no deve essere tipo 116 pixel 116 x 116 tipo un un quadratino iper piccolo appunto della grandezza di questo qui che è piccolissimo i sandali di gesù scrivi il petticure e vai nella wiki wiki little pretty no pretty little liar perché mai è uscito questo? no ma volevo anime ah no che cazzo perché non ah ok sono stronzo io che non so scrivere pretty cute non so capricollare sono un genio no è totalmente diverso da quello che aveva messo lui puri chiu puri chiu è un francese anime ma ho chiu vabbè comunque è della falsa linea di quelli sì ok ma non si capisce cioè nel senso non puoi fare troppi dettagli perché ah non si vede big non ecco rega dato che ora siamo in un momento in cui c'è un po' di gente e mi sono rotto il caso di fare omegol perché ci ho dato il cuore possiamo decidere i nomi per i sub decidiamo i nomi dei sub ok ok in tema ecclesiastico tipo diciamo allora gli apostoli sono ovviamente sono i mod se te sei un mod sei un apostolo quindi mod uguale apostolo poi chierichetti è un mese un mese di sub un m un mese uguale chierichetto buongiorno vale devo trovare il tempo ma mi paghi guarda se mi fai un bel lavoro ti posso anche pagare e non sto scherzando ora non potresti perdere 10.000 miliardi biblici si 10.000 però nel senso poi si ragione il privato si scrive oh è un botto che non mi chiamava rosa chemical davvero mi paghi ma io scherzavo c'è un conto paypal è anche facile non morire a 27 anni cittadino follow age allora tre mesi cinque giorni ben ritrovato a quanto pare dal 28 eh anche a me oddio a me mi sembna dal 28 sì no effettivamente un po' di più sembra un altro tre mesi cosa siete dopo tre mesi di sub poi rinasce come ecco il concetto che vorrei fare per le motte dei sub è tipo ah un mese c'hai qualcosa due mesi diventa più tipo i livelli di super saiyan a un livello a goku normale secondo livello c'è i capelli di gali terzo livello bla 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 preti preti dopo tre mesi boh mettiamo preti dopo tre mesi dopo sei mesi tre mesi parroco ok preti slash parroco sei mesi a questo punto preti slash qualcos'altro papa 24 mesi si può dire 24m se qualcuno mi fa il follow per 24 mesi è papa papa 12m 12m che poi devo vedere un attimo perché c'è tipo dove devo è un bordello sei mesi no sei mesi papa no ora lo so che molto arrogante dire da parte mia che oh no dovete stare dovete 24 mesi però nel senso l'idea è farlo a lungo tempo quindi qui c'è tutti i miei mod lol lol leo ecco giulio gaster ema cesare angry ale attività punti canale contenuti no è un bordello non capisco poi io sono stupid io nelle cose troppo di mod vescovi dove se li metti ecco i vescovi magari a 12 mesi vesco vo 12 mesi vescovo ci sta se non far diventare più forte gente che non se lo merita è vero effettivamente te lo dovrei levare in mod gli angeli sono buoni finché non incontro la loro nemesi di singolo un mese chierichetto tre mesi catechista sei mesi parroco perché ora sarà giusto un attimo scusate perché preferenze canale magari non andare drop perché non epilogo obiettivi attività punti canale no attività no gestione ruoli no obiettivi no ripilogo streaming neanche analitica canale neanche gestione streaming no home magari devo andare che bordello torna su twitch dai 9 mesi parete 12 mesi 24 papa ok già mi piace di più impostazioni magari devo andare twitch prime no no perché ho un bordello videoproducer raccoglie qualcuno sa come sono come sono organizzati i mesi dei sub ogni quanto poi diventi diventa più forse il suo affiliato deve andare ecco nome abbonamento no ecco i nomi degli abbonamenti poi li devo cambiare tipo se uno fa il livello 2 comunque non credo che qualcuno sa però semifedeltà semifedeltà oh eccolo un mese due mesi tre mesi sei mesi nove mesi un anno e poi si sbloccano gli altri mi sembra dall'anno 2 a 8 diventano partner ok il 2 2 anni tipo devo diventare partner che ok va bene buona fortuna diventare partner quindi ok 1 il 2 ci manca 2 m 3 6 9 9 m ok quindi 1 chiedi che ti 31 temenzi dell'anniversità non esiste 31 mesi la mia foto di profilo su telegram è micu micu la mia amatissima micu che ho ovunque non ci mangio ok allora quindi ripetendo primo mese chierichetto secondo mese che mettiamo parroco per ora mettiamo parroco poi terzo mese preti sesto sesto mese Miku anche nelle mutande edit se avessi soldi a buttare comprerai stronzate anche come mutande di Miku l'ex dice che Miku è una bastarda perché vuole tipo uccidere tutti va bene va bene catechista dopo cosa dopo chierichetto cacchettista cacchettista si scrive come si scrive catechista perché cacchetti scusate ma i chissimandi che cazzo sono i chissimandi tipo i jandere simuletto no non è tipo i jandere simuletto no è la la vocaloide che poi io le sue canzoni non le ascolto perché non mi fanno impazzire mi piaciucchiano qualcuna però non mi piace mi fanno impazzire però mi piace un sacco l'art design proprio mi piace il suo character design come è disegnata mi piace mi piace poi il bello di Miko è che c'è che i wallpaper di Miko ne trovi infiniti quindi c'è un'infinità di bei wallpaper che sono figli e il fatto di Miko è che mi fa fatica a trovare il mio waifu migliore però mi sono innamorato è stato l'amore a prima vista comunque penso legno come no credo ok gerarchia non visto che la odia vado subito a sentire una musica di Miko ci sono il battito e la comunione si ok però dobbiamo trovare dei nomi fighe cioè nel senso effettivamente posso cambiare il vescovo lo metto a nove mesi e il papa a dodici però sarebbe tipo la missione di oh no non riuscirò mai arrivare è però quando se riusciamo a prendere il partner dopo riusciamo a scendere dopo se tipo sblocchiamo i due anni perché poi dovete arrivarci a due anni da papa puoi diventare semi divinità poi c'è i quattro anni ne credo dopo quattro anni diventi divinità inferiore minore e poi a otto anni diventi divinità proprio dio che si scrive e viene battezzato chi si scrive e viene battezzato importantissimo anche cosa molto importante quindi ci sta anche semi divinità quindi quando diventi ripetiamo tutti insieme bambini quando diventi quando fai il primo mese di abbonamento questo è un tono gigantesco diventi un chierichetto dopo il secondo mese di fila diventi un catetino possiamo cambiarlo perché non lo so dire catechista a tre mesi diventi un parroco a sei mesi un prete a nove mesi un vescovo a dodici mesi il papa un papa poi e a ventiquattro mesi divinità a quattro anni diventi divinità minore e poi a otto anni divinità maggiore non possiamo usare anche le cose del karate no idee del cazzo no perché si va fuori tema cioè nel senso anche perché poi come devo fare cintura gialla cintura arancione cintura che c'era dopo arancione verde no si verde verde marrone poi nera no se fossimo un canale a tema si l'arcivescovo le femmine allora dato che mi fa schifo catechista perché non lo so dire sposto il parroco al secondo mese il prete al terzo il vescovo no aspetta il vescovo no arcivescovo no com'era arcivescovo arcivescovo è più grande o più piccolo del vescovo no arci dovrebbe essere più figo quindi vescovo sei mesi e arci vescovo copo è nove mesi primo secondo terzo dan no perché sono pochi sarebbe un po' speccato non so come funziona no semplicemente sarebbe io che vi do il nome e poi questo è quello che mi deve aiutare te a fare ci sono le motte appunto tipo davanti il nome come puoi vedere non da Ale perché è un bastardo però tipo davanti a Ema c'è il il simbolo del primo ok e quelli sono i primi dieci che fanno il sub e prendono quel simbolo ok tutti gli altri il primo mese si prendono uno che deve essere associato al chierichetto al secondo mese il parroco al terzo mese e tutti i motte molto piccole comunque ecco ecco pure Vale c'è il simbolo il primo che mi dispiace in realtà perché sarebbe figo che avesse magari sia quello che il quegli altri un po' mi dispiace non capivo la corona è per il prime la spada è per il mod che sono apostoli il mod il segno del primo è perché se è stato tra i primi dieci hanno fatto il sub e poi nulla poi ci sono i simboli normali tipo quando regali un sub in realtà lì non c'è il simbolo del primo ma c'è il quello normale se tipo qualcuno donasse a cazzo di cane un sub beh il grado di madre superiore sono la stessa cosa ah ok grazie per l'informazione allora posto di parroco per il secondo mese cosa possiamo mettere se non si nasce se non dici ok dovrebbe darti quello che vuoi no 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 siete davanti ai miei occhi davanti agli occhi di dio siete tutti uguali per il prem facciamo la corona di spine no per il prem è indifferente cioè nel senso il prem è un abbonamento normale e non cambia quella è uguale per tutti i canali quindi quando uno mi entra in chat scrive e vedo che c'è la corona io so che c'è il prime se non ha nessun altro simbolo tipo quelli miei del mio canale tipo il simbolo del primo appunto o la spada vuol dire che è uno che non ha messo il prime oddio nel senso ha il prime e non me l'ha dato e comunque c'è il mod quindi c'è un altro simbolo però il concetto di solito è che se uno entra a cazzo di cane e ha solo la coroncina vuol dire che può fare un abbonamento gratuito a una persona e basta leggio leggio che è un leggio comunque vale per informazione te sei una chiarichetta al momento tutti a sementare ok sei un leggio no qualcosa di più simbolico qualcosa di più riconoscibile leggio che si legge le le leg leg leggio leggi leggi che cazzo stai dicendo le chierichette oh no poffacca non parlare le persone alle spalle che ritorna tutto no no non ti sto parlando alle spalle mi stai guardando sei in chat io non parlo mai alle spalle raga a meno che non devo fare esempi tipo per versioni strane tipo palle in quel caso parlo è parlare alle spalle fra virgolette è più un un lodarlo io producer e di stadio santo il leggio quello che serve per leggere leggio ah leggio perché dovrei chiamarlo leggio scusa buongiorno doa gestione string ok posso finalmente leggio vi do fai live di domani fai live di domani e fai la domenica alle palle comunque raga per chi non fosse entrato nel telegram entrasse molto importantemente l'ho detto apposta l'ho detto apposta male entrate nel telegram che almeno non vi perdete le live non lo so per me l'importante è che arrivassi a cosa era la parola ok eh raga è il problema degli accenti leggio leggio avevo detto eh sì è un accento un accento diversa non è come lo leggi non è le pause che cambiano la parola ma gli accento siamo abbiamo una lingua che gli accenti sono importantissimi se sbagli accento non si capisce più un cazzo leggo invece che leggio cioè un'altra parola telegram perché vado su telegram che è successo su telegram beh che dire se fossi io il proprietario dei miei soldi l'avrei già con perché 115 euro ma stai scemo ma perché ma why mentre chiarichetto seminarista che è chi studia per diventare prete prete vescovo cardinale 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 è più figo allora per ora seminarista mi fa un po' cagare chiarichetto ci manca uno prete vescovo cardinale papa io volevo suonare le campanelline io volevo suonare ciao ma dov'è oggi pizza è un po' depresso stavo mangiando e bevendo in solitudine quindi è molto suscettibile e le suore ma il fatto che le suore sono una cosa non nella gerarchia le suore come cazzo sono viste anche perché il cristianismo è proprio una cosa iperfessista cioè nel senso non ditemi il contrario ho fatto la chiarichetta mi faceva schifo di gli armi come di presto io sono nato una famiglia buddista quindi io sono proprio la cosa più lontana dal cristianismo però nel senso mi portate a divertirsi perché parlate della chiesa perché stiamo creando i nomi per chi fa il sub tipo al primo mese diventa un chirichetto al secondo mese di fila diventa un parroco che in realtà dobbiamo cambiare perché il parroco non va bene al terzo mese un prete dato che hanno detto il parroco e il prete è la sessosa al sesto mese di fila vescovo al nono mese di fila cardinale al dodice mese di fila papa e poi si sblocco il si diventa un come cazzo si dice perché me lo sono scordato comunque più dell'affiliato su twitch li sblocco quelli 24 mesi 4 anni 8 anni e li si decidirà però per ora mi serve quello per il secondo mese che cazzo ci va dopo il di richetto ma prima del prete qualcosa di che ci sta cosa eggi sopra più bene non so te che ti è cresciuta tale dai non te la tirare troppo che sono un dio caritatevole finché finché non mi fai torti e poi ti mando morte e distruzione sotto i freddi ci sono le suori ok maestra e noi devono intercambiare che il richetto non lo farò mai no ti benedico quando quando diventi un sub ma io volevo tirarti su di male non particolarmente io sono cristiano non praticante vado solo in chiesa perché sono in un gruppo del dopo cresima allora un consiglio a tutti quelli cristiani non praticanti informatevi del studiate sentite le curiosità della mitologia cristiana che è molto figa come mitologia cioè quella che insegnano poi alla fine la mitologia vera cristiana è molto più figa però nel senso perché poi puoi fare battute io non posso fare molte battute perché non le so molti riferimenti quindi per me è difficile io sono cristiano non sei cristiano sei un cristiano non praticante ma quelli che dicono sono cristiano ma non praticante mi triggerano perché quindi sei un cristiano obbligato c'è una persona più svegliata a cui chiedere non offendere una principessa che c'è dov'è perché non ti vince ok Ale ma oggi è proprio brutto madonna credo che pizza stia cercando un condimento tu non puoi capire il tuo è uno stile di vita il mio diventando ok chi ne ha voglia di fare tutte le cose che bisognerebbe fare cristiano no 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 ho detto di fare tutte le cose che le abbia fatte da cristiano praticante perché se credi in Dio e credi che ti punisca se fai certe cose allora le fai perché ehi se faccio queste cose Dio mi manda all'inferno quindi non le faccio ma se non credi in Dio che ti manda all'inferno quelle cose non non ti dà fastidio farle cioè sti cazzi di farle perché ehi non mi manda all'inferno perché non esiste Dio non esiste l'inferno bandesco quindi il buddismo non è una religione giusto è una religione raga il buddismo perché crede che il buddismo ha uno stile di vita è un cazzaro cioè chi lo dice è un cazzaro chi ci crede è uno che non sa cosa è il buddismo credono nella rincarnazione credono nel karma credono in cose extra extra materiali quindi è una religione non vorrei far battute brutte ma lei la servita quindi voglio far diventare la mia insalata un'insalata russa ok mi dispiace non posso dire fare qualcosa per tirarti su di morale non dire grazie Ale ora le faccio io le faccio perché ci si confessa i peccati vengono perdonati ecco un Dio un Dio che che basta dire oh mi dispiace per aver fatto queste cose dopo che magari hai fatto una strage che Dio è è un Dio ingiusto perché tutte le bravi persone che non si confessano perché hanno fatto una puttanata invece vanno all'inferno non ha senso ma proprio dal punto di vista logico io credo nel karma ma anch'io ci credo cioè ci scherzo fatti vatti vattene senza farmi accorgere della tua volontà e oggi ho veramente imparato cose il buddismo tutti hanno sempre detto che è una serie di vita che non è vero che quando mi dico no è una cazzata se reciti migliori tuo spirito migliori te stesso il tuo karma delle vite passate quindi no è una religione poi la gente lo può chiamare come cazzo gli pare ma è la definizione di una religione poi è molto bello io non sono buddista perché non ne ho bisogno il buddismo è tipo un centro per persone che hanno bisogno di un centro per aiuti tipo tipo il cert il buddismo è come il cert si mettono a chiacchiare tutti in gruppo recitano e poi ah sì io ho fatto sta cosa e sono riuscito a superare i miei problemi e ora sono una persona migliore quello è il buddismo dire le proprie cose e affrontarle insieme sforzarsi infatti a me piace un botto il buddismo e ve lo consiglio soprattutto quello del Sokka Gakkai del Suter del Lotto comunque ve lo consiglio perché è una bella religione e vi aiuta soprattutto dal lato umano non è che vai lì e preghi Dio vai lì e parli con delle persone che ti danno consigli delle persone che magari hanno avuto dei brutti passati che sono diventate belle persone no aspetta poi abbiamo solo i peccati meno gravi vanno perdonati non c'è bisogno di confronto ma io credo nel karma e nella rincarnazione allora proprio cosa c'entra il cristianesimo con quello pensa nelle ricette ok sì ok sono i 36 faccio le 10 versioni e poi facciamo scribble questa faccia era per le 10 versioni quindi direi al secondo che cazzo il micramp ma parlo no che cazzo si aveva detto suoni al secondo mi sei in una storia ottimo eh c'è anche a me in queste cazzo altre delle si vede sì sì con le 10 versioni avete visto quanto sono veloce quanto sono figo o no avete visto che sono nerd di merda con l'inquadratura di adesso allora alle mie spalle comunque mi scuso per questo martedì se non ho fatto live però sono crollato a luna di notte stavo dormendo poi alle 4 di notte sono venuto nel sonno erano anni che non mi succedeva da quando ancora non mi segavo che non mi succedeva però ho dormito come un sasto proprio boia scribal scribal con i follower fine lo sappiamo già che sembra per spiegare il cosmo no tutte le religioni sono nate per non per risorgere la paura nell'uomo della morte ecco perché le religioni sono create perché gli uomini hanno paura della morte non peraltro adesso ho fatto un sogno bagnato cosa dovrei fare di questo info no nulla parliamo di questo canale parliamo di tutto quello che mi passa per la mente proprio sono senza filtre massaggio 2.0 sono più il cugino di gesù anche perché sono molto più calmo sono molto più quello è il link no per domani massimo allora le religioni sono state create per perché la gente ha paura della morte le grandi religioni tutte le bla 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 tutto quello che viene dopo tipo le grandi lobby cristiane ci sono sono create per i domani rimasti in quel caso sì però all'origine le religioni ci sono perché la gente ha paura di morire non può vivere senza pensare che non ci sia altro non ci sia altro tra lui no l'uomo non può vivere senza pensare che lui sia importante l'uomo non gli frega un cazzo all'essere umano non gli frega un cazzo se c'è qualcun altro se ah c'è Dio no Dio serve perché almeno può andare in paradiso e non muore il karma la rincarnazione serve perché io sono importante e quando muoio voglio rincarnarmi e non essere più morto tutto tutto è perché l'uomo ha paura e perché l'uomo si sente importante ma io ho due cose mi viene me de vici dici temi tu temi tu la morte valentina pizza leo cringe come leo cringe no ale ma siamo un mostro scusate ma giudico le persone che credono nel karma e che credono nella chiesa in quanto organizzazione ma io non credo che nulla sia vero però ci spero cioè il fatto è quello io ho paura della morte io non voglio morire e quindi mi illudo che ci sia la reincarnazione e il karma è una una cosa divertente da usare del tipo ah mi succede tutta questa sfiga perché nella mia vita precedente era un pezzo di merda e quindi ora il karma mi sta ponendo però lo uso più abbattuta non è che ci creda avvia cringe qualcun altro che vuole entrare tanto siamo nell'era dell'acquario sono ricerendo nuove religioni mi spiace ma già stanno creando sono sono state create se ne creano di continuo tipo il messia degli hentai è una nuova religione la nostra religione credo che quella degli influencer sia una nuova religione oppure la religione della stupidità comunque nessuno vuole entrare quindi io ho un atto stormy quella stormy io ero una persona uguale ad ora nella mia precedente vita perché il mio culo è la mia sfiga perché il mio culo è la mia sfiga sua per il mio culo è la mia sfiga sua ok non ho capito si equivalgono ok non scherzo buono mi piacerebbe pensare che 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 esista la reincarnazione mi piacerebbe ma basta che una religione sarebbe meglio eliminare un po' quelle ci sono e le religioni servono le religioni servono le religioni servono le abbiamo questo Gesù Cristo un attimo faccio così e poi così poi leviamo no lo cazzo questo 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 ok e possiamo avviare na 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 ah mettiamo un po' di musica bruttissima di no coper il salto finalmente potrebbe senza religione non sapebbe in cosa credere si ci sarebbe un po' di anarchia no ultimamente ho sentito ho ascoltato un botto di no coper di sabaton poco un botto produzione casuale abbassiamo il volume non si sente ah ok l'abbiamo mutato no no che è morto no pizza anche se ho paura che le persone trovino la religione un motivo per vivere no c'è molta gente che trova la religione un modo per vivere e la cosa è già paura tutti morti anche vale è morta comunque tu sei mongo perché mi ti mi appunto 30 di fila sono molto più più dure di 10 che posso regolarmi come mi fare se mi fai 10 10 volte 10 io per tutta live mi stopperò e riprenderò se mi fai 33 di fila io le devo fare di fila dopo delle belle pause del tipo ok ora le faccio e mi metto lì però se tipo è per quello cioè perché morirei pizza no dove sei siamo le regole del bene e del male per non far collassare la società già non se ne fregano delle leggi almeno quelle ma mangi un casino anche il culto della personalità è una religione sì 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 sono d'accordo sono d'accordo ma credere che siamo esseri che nascono crescono e muoiono senza forse ricompensate essere per forza utili no il fatto che è brutto cioè molta gente cade in depressione per questa cosa perché io chi sono per cosa vivo sono importante vorrei essere importante le cose mettere sotto foto ma anche a me piacciono in realtà il problema è che ricorda molto il 2013 guarda da uno di modo alle smette di sparmare queste cose si avvio se ti devo imbottare te lo dico che mi ha proprio facendo remedi mi disse di scegliere da che parte sei tra i delinquenti bravi tra i delinquenti bravi in classe in acque eh scusate in classe in acque il meme di Anna che sceglie tra il bene e il male così mi andava ok facciamo remove che è più figo il removato oh no cazzo è vero la chiudo così un attimo ora ritorno subito col mio fantasticissimo viso xsplit eccolo che cazzo è ok no che è morto lo cringe no pizza perché sei morto no pizza che ti è successo tanti vi mi sono buggato tutto oggi non è giornata no pizza oggi non è giornata vai a dormire mettiti a letto a pancia all'aria con la live davanti e non fare più nulla non ti muovere potresti tipo inciampare e romperti qualcosa ne fa un'altra dopo si ne faccio un'altra dopo tranquilla in realtà potresti ancora entrare io nel caso te lo metto il coso cosa cazzo lol grazie grazie che scrivi classi io capisco che è classe ok dai questo è easy allora facciamo un bel visino due occhietti un naso una bocca e questi robbie bugato davvero ti sei bugato di nuovo madonna non vedo nooo pizza mi spiace guance si guance tristezza pizza oggi è proprio una giornata povero pizza ma infatti questo è il motivo per cui quando qualcuno dice inizia a dire cazzate come stava facendo inizialmente pizza io non non mi non gli dico nulla perché molto spesso se uno prima è normale poi inizia a fare cose del genere c'è un motivo e non non mi va di di essere quel tipo di persona che giudica a cazzo di cane infatti ho voluto cercare di capire porca puttana che cazzo è c'è scritto troppo non capisco un cazzo di quello che scrivi che hai scritto che non si rende conto di averlo detto no 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 l'avevo detto apposta cosa cazzo dovrebbe essere che cazzo è banò non capisco che c'è scritto non capisco non capisco come cazzo hai fatto vale è diventato cazzo p cucina no non avevo dio madonna proprio che ho scritto cucinare come mi è impassato per la testa per tutti noi crediamo in qualcosa nulla si crede nulla si distrugge tutto si rassuma quella cosa è qui bomba qui parla sono i nostri impulsi elettrici che al decesso vengono rilasciati il mistero impulsi elettrici in realtà si fermano però vabbè lasciate il mistero dove se ne vanno alcuni credo che vengano serviti dai vari che vanno visitare i vari istinti per poi con i loro dati per poi permettere a loro di rincarnarsi alla madonna che trippa mentale a parte molte parole non ho capito il cazzo però ognuno crede in qualcosa c'è chi chi non vuole credere però è difficile non credere io credo che cazzo non rami non è no frutti dei dei di 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 cosa cazzo No, non è quello Ah, vabbè, sta scrivendo cazzate Che cazzo era? Praticamente come il sistema Fiori di ciliegio Perché scusa avevi fatto un ciliegio? Normale Mi fai un fiore? Io come cazzo dovrei fare Scribble a disegnare la realtà? La realtà In realtà non è sto colore Oddio no Eh, ti piace, vero? Questo fenicottero che dovrebbe essere un'altra cosa No, fuck No, sto per fare una cosa terribile No! L'ho fatto davvero No, non volevo farlo Cosa cazzo è diventare? No, era uno struzzo Era palesemente uno struzzo Ah, raga, se ne fa un altro Non mi ricordo come si fanno gli struzzi Cioè, che colore sono gli struzzi? Scusate Struzzi Struzzo Ok Sono neri Ok Neri Ok Che brutti Non me lo ricordavo Dai, raga Ma come vuole entrare? Ma te li batti sempre tutti? Bianchi Sì, l'ho detto anch'io Però boh, mi ricordavo rosa Perché appunto mi ricordavo I Fenicottero Ma perché sono scemo io? Tranquilli Mi battono sempre Mi sono volentrare Mi hanno scammato con l'albero di Cilè Sì, l'albero di Cilè Eh, giusto, nel senso Ero orrendo Nessuno? Va bene I miei bellissima struzza Comunque Due l'hanno capito Dalla testa incazzonata Di dentro la terra No 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 Cosa Non è un quadro Sa Eh, vabbè Ma Se dovete scrivere Me lo scrivete bene Te 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 Telefono No, tab Ah, tablet No Tranquillo Pizza Tablet Narokobalena Ti stai battendo Dai Va Vabbè, è facile Al primo round Ti stai battendo Com'è Cos'è Human centipede Centipede Gu Gucci Eh Non ho capito Cosa cazzo Perché gli hai fatto un pene No, non ho capito Cos'è Non ho capito Non ho capito Ma vale ha scoreggiato il cervello Modello Oddio Oddio Era una passerella No, non l'avevo capito E' un Al cazzo Di sfida No, proprio Quella Di un Capelli Lacri Sudore Cosa non è Sudore Eh No Eh Non è un riporto Non è Donald Caldo Ma fammi un E lui Lui quando si sveglia Il corte mattina Tutto bagnato Vabbè Ehm Pichezza Dai rega Smettete di trollare Porco Vabbè rega Sono le tre Esattamente le tre Connex Connexion Connexion lost Mi hanno Chiccato Dalla me stessa Cazzo di partita Vaffanculo Va bene rega Dato che io Sono Abbastanza Rincoglionito Oggi Diciamo che Possiamo stoppare Qui la live Troppo tosta Sì comunque Ha venuto la valentina A mai di basso Comunque rega Meglio Comunque rega Ehm Vi ringrazio Mille per tutti i follow Vi ringrazio per la compagnia Vi ringrazio per i commenti E mando a fanculo I stronzi Che hanno detto Le parole proibite Che vabbè Esistono Purtroppo Ehm La gente Che vabbè Lasciamo stare Lasciamo stare Ehm Quindi rega Io dico che per questa live È tutto Noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti E mi raccomando Buonasera a tutti